Siamo arrivati ad esaminare il terzo punto della nostra ricerca, una eventuale vocazione di Orazio ad esprimersi musicalmente. Ecco, ci avviciniamo trepidanti all'ascolto del poeta per recepire le sue più intime vibrazioni e le sue aspirazioni a permeare di musicalità i suoi ritmi e i suoi metri. Già alla fine dell'ode prima, dedicata a mecenate, Orazio si augura di essere elencato tra i vari lirici se il flauto non tiene muto euterpe né polimnia nega gli accordi della lira lesbia. Gli ricorda però, confermando la sua particolare indole poetica in ode 2, di non volere che io adatti ai suoni molli della cetra la guerra lunga, a me la musa ha imposto di cantare dolcemente gli sguardi accesi di Licimnia. E intanto vediamo affiorare nel poeta pian piano, quasi timidamente, influenzata dalla poesia greca la preoccupazione di rapportare alla bellezza della musica la grandezza del suo pensiero lirico. Non credere, gli dice nell'ode quarta nove, cadu che le parole che io, nato presso l'ofanto sonoro, modulo in ritmi o non prima diffusi perché siano accordati sulla lira, anche se qualche tempo dopo, sconfortato dai fatti politici in Roma, scriverà all'amico Florio in Epodo 2. Ed io tra flutti di vicende e cose della città dovrei formare parole atte a muovere il suono della lira? Spesso Orazio sente la necessità di cercare nelle muse, negli strumenti musicali, nei musici, elementi vitali per sostanziare la sua poesia e renderla più accetta, più consona agli argomenti che tratta, più incisiva e più leggiadera. Per esempio, egli stesso non osa, non sa che se con la lira o con l'acuto suono del flauto potrà celebrare Giove e Augusto, se Virgilio potrebbe, modulando la lira più suavemente di Orfeo, far risorgere l'amico Quintilio e supplica Giove che nella vecchiezza non gli si tolga la cetra, questa. Che sola, che solo mi conforta. Ma nonostante la sua disponibilità e aspirazione a rendere sempre più musicali i suoi versi, Orazio avverte una sua naturale insufficienza ritmico-musicale che da un lato lo induce a ripetuti scoraggiamenti e dall'altro lo riempie di nostalgia e di rimpianto nei riguardi della lira greca. Così, nell'ode 1, 12, in onore a Giove e Augusto, invoca quale uomo, quale eroe vuoi celebrare, Clio, con la lira e con l'acuto suono del flauto e ricorda, con sottile invidia, Orfeo dà la voce tanto dolce da riuscire persino a guidare gli alberi che l'udivano. E non fa che commemorare Mercurio, padre della curva lira, ammirare Diana con l'omero della fraterna lira ornato, sentire Apollo che suole a volte destare con la cetra dal silenzio la musa, ricordare Saffo, Mesta, sulle corde d'Eolia cetra, quando per le sue fanciulle si addolora, e te che canti o alceo, più vigoroso con la tua lira d'oro i duri casi del mare dell'esilio della guerra. Quando l'ispirazione poetica tace in Orazio, gli resta la musica, ecco, aspetta il ritorno dell'amico tra i suoni della cetra. Nella campagna di Ustica tende l'orecchio perché alle falli pietrose suona dolce la zampogna, mentre ascolta lontano sulla lira di Teo, cantare gli amori suscitanti da Penelope e da Circe stupenda. E qui l'amore è già musica, come dice Platone nel Convito. L'amore è maestro di musica, musicam docet amor. Nell'ode a Chloe senti affiorare in Orazio una musica sublime, questa volta da fare invidia allo stesso Virgilio, con la delicata trama di sensazioni femminili. Mi sfuggi, Chloe, simile a cerbiatto che cerca sui monti impervi la madre, impaurita di un soffio e del bosco, e se un brivido corre sulle fronde mobili, e se un verde ramarro salta da una frasca le membra e il cuore tremano. Nelle odi conviviali sembrerebbe che Orazio sia dedito alla crapula più che al resto, e invece è qui che sente insieme con l'ebbrezza del vino la forza invisibile della musica e la invoca ad ogni istante come amica inseparabile della sua felicità. È strano che si insista da parte di alcuni critici sulla poca musicalità di Orazio, ma se il poeta non coglie occasione per manifestarla, sia nei momenti di pace che in quelli di allegria, di tristezza, di amore, di convito, di meditazione, vuoi una musica vasta, solenne, veitoviana. Leggi la regina delle odi oraziane, l'ode attorquato, dove gli accenti sonori si fondono con le radici del problema metafisico, la morte, l'aldilà. Vuoi anche musica triste, depressiva, melanconica? Leggi l'ode a settimio, tra le più musicali del poeta, o quella all'amico ritrovato, o quella a postumo, o quella legata al tempo che passa e tutto distrugge. Vuoi una musica leggera, delicata, serena, fluida, cellode a tindari, appena percettibile e cellode a fauno, dove, come scrive Marcovati, senti risonare le corde della sua lira e gli accordi puri e nitidi, armoniosi, perfetti, si propagano attraverso il tempo e carezzano l'animo degli uomini. Giustamente si è scritto che la sua anima meditativa è anche meravigliosamente sensibile, ha per i colori e per la musica delle cose una curiosità sollecita e squisita, ma è nella quarta ode del libro terzo che Orazio fonde meravigliosamente la musica con la poesia, in un cantico alle muse in cui effonde tutto se stesso. Ecco, nell'evocare le muse, Calliope, con il suo canto e Febo, con la sua cetra, il poeta esclama, rapito in estatica visione, udite, o forse un'illusione dolce mi invade? A me sembra di udire e per boschi vagare sacri, e subito dopo esplode in un canto di straordinaria intensità. Vostro sono io, Camene, vostro quando salgo all'alta, sabina, amico, dei vostri cori. Ogni volta che voi sarete meco, potrò tentare, navigando il bosforo burrascoso, percorrere il sabbia arse dell'idosirio andare fra i britanni feroci. Tutto questo conferma come Orazio sentisse entro di sé veramente un flusso di armonie e di melodie, che egli cercava di estrinsecare in forme sempre più alte di preziosità stilistica, apportando quelle modifiche necessarie alla sua sensibilità artistica e musicale nell'ambito notoriamente rigido della metrica greca acquisita.